Costruire una nuova Roma, ecco questo è l'intento di Costantino nel momento in cui decide di rifondare Bisanzio, chiamandola appunto Costantinopoli, la città di Costantino e di spostare la capitale dell'impero da occidente, da Roma in oriente, in un luogo, in un punto che fa proprio da ponte con il vicino e l'estremo oriente. Quindi l'intenzione di Costantino è quella di spostare l'asse del potere imperiale verso oriente e di prendere esempio e quindi di creare commistioni con culture diverse da quella tradizionale romana. Mentre noi abbiamo visto che per esempio la religione cristiana in occidente rimodula, riutilizza le forme della religione precedente e comunque della cultura romana per costruire i propri luoghi di culto, mettendo insieme l'esteriorità diciamo così in qualche modo del tempio ma soprattutto l'interiorità della forma basilicale, in oriente avremo lo sviluppo di forme completamente nuove, cioè non ci si limiterà ad utilizzare queste forme poligonali della basilica romana ma si cercherà di sviluppare soprattutto la pianta centrale. Cosa è la pianta centrale? Sono tutte quelle piante che sono costituite da figure appunto centrali che si basano sul cerchio o per esempio sul quadrato, o su figure mistiline, figure geometriche centrali come il pentagono, l'esagono, l'ottagono, il decagono eccetera, o figure mistiline che possono iscrivere una croce greca, cioè una croce a quattro braccia ovviamente, tutte e quattro della stessa dimensione, per questo si chiama croce greca, una croce immissa dove le braccia hanno tutte e quattro le stesse dimensioni. Quindi vedete che in oriente si comincia a ragionare su un tipo di architettura che è completamente diversa da quella tradizionale romana e greca. Intanto per cominciare si perde il valore degli ordini, i tre ordini tradizionali, dorico, ionico e corinzio, vengono sostituiti da ordini nuovi, da ordini in qualche modo mescolati fra loro, da capitelli a cesto, che non hanno più un forte sviluppo volumetrico, quindi non hanno più i riccioli e tutta la ricerca che per esempio si era raggiunta nell'equilibrio formale del capitello corinzio, ma invece c'è una specie di tessitura, un'attenzione, una delicatezza per il traforo, come se si trattasse quasi di stoffe più che di capitelli in marmo. È interessante il fatto che vedere questi capitelli e questi pulvini, poi vedremo cosa sono i pulvini, sono delle strutture troncopinamidali rovesciate che vengono poste tra il capitello e l'imposta dell'arco, quindi ad elevare ulteriormente queste strutture, a renderle più spinte verso l'alto, ma tutte queste strutture sono così ricamate, traforate, in modo da ricordare in maniera abbastanza evidente per esempio quella che sarà l'architettura all'arte islamica ma anche l'arte indiana, cioè con questa sorta di horror vape, questa volontà di riempimento di ogni spazio e di decorazione di ogni spazio che è una decorazione però superficiale, non tanto volumetrica, quindi non tanto scultoria, quanto pittorica, cioè la volontà proprio di dare tante caratteristiche, tante specificità a queste figure. Se andiamo a guardare la forza la più importante, anzi senza forza, la più grande, la più importante chiesa giustinianea di Costantinopoli, quindi realizzata da Giustiniano tra il 532 e il 562, la chiesa si chiama Santa Sofia o Santa Sofia, quindi la Santa Sapienza, la Divina Sapienza, Sofia significa appunto sapere, troviamo che questa architettura ha qualcosa di incredibilmente affascinante, oggi è diventata una moschè ovviamente dopo l'invasione dei turchi, ma soprattutto ha una struttura completamente nuova rispetto a quello che conosciamo in Occidente. Santa Sofia è un cantiere imperiale direttamente pagata da Giustiniano e quindi non si risparmiano mezzi, era completamente incrostata, ricoperta di marmi provenienti da tutto l'impero, da mosaici ricchissimi che la foderavano al suo interno e che purtroppo sono stati coperti nel momento in cui la chiesa diventa una moschè, perché abbiamo detto più volte che sia gli israeliti, che sia i musulmani, praticamente una religione aniconica, quindi non tollerano la rappresentazione della divinità, quindi in quel momento purtroppo sono state coperte i mosaici, ma un edificio di una grandiosità mai raggiunta in precedenza. Una forma che se la vediamo dall'esterno ci dà l'impressione di essere una pianta centrale, ma che se vediamo appunto la pianta ci rendiamo conto che invece è una pianta longitudinale, che però ha una caratteristica di sviluppo curvilineo al suo interno dovuto al tipo di coperture. Vedete che si tratta di una lavata centrale di forma rettangolare, che però è coperta al centro da una cupola e ai due lati della cupola stanno due semicupole impostate su esedre, sulle quali a loro volta si impostano altre semicupole su altre esedre. L'aspetto finale è un aspetto assolutamente curvilineo, mentre le due navate laterali sono coperte da semplici volte a crociera. Poi vedremo anche la differenza tra volte a botte e volte a crociera. Ne abbiamo parlato l'anno scorso, ma rientreremo nel dettaglio. Quello che interessa a noi è che all'interno di questo edificio, che in origine era preceduto da un grande quadriportico e da un doppio nartece, si ha proprio una sensazione di straniamento. Uno straniamento che è dovuto in parte all'andamento curvilineo di cui abbiamo parlato e in parte alla ricerca dei materiali utilizzati, tutti materiali molto brillanti e molto riflettenti, che con l'inserimento della luce, tantissima luce, vedremo dalle finestre che sono aperte in tutto l'arco dell'edificio, ma soprattutto le 24 finestre che sono impostate sotto alla cupola centrale. Quindi una luce che inonda completamente questo spazio riflette e emana una quantità di bagliori tale che l'effetto più o meno è quello di cui abbiamo parlato per la piccola chiesa, per il piccolo mausoleo di Galla Placidia, che non a caso infatti è la figlia di Teodosio e conosce questo tipo di caratteristiche, questo tipo di cultura, è evidentemente permeata della cultura bizantina. Cosa intendo dire con effetto di straniamento? Guardate quello che succede all'interno di questo edificio, ancora completamente incrostato di marmi, purtroppo ha perso appunto le dorature, gran parte delle dorature dei mosaici, quindi diciamo l'effetto è comunque un effetto relativo rispetto a quello che c'era in origine. Ma nonostante questo noi guardando, qui siamo nella lavata centrale, non ci si rende conto nemmeno di essere nella lavata centrale. L'aspetto che si ha è un aspetto multiforme, qualcosa di assolutamente ondivago, che non si ferma in nessun punto e quindi uno è appunto completamente straniato da questa pioggia incredibile di luce. Pioggia di luce che appunto, come vi dicevo, piove da queste 24, piove da tutta una serie di aperture e in particolare da queste 24 finestre montate su archi a tutto sesto impostate tra i costoloni della cupola e in particolare tra il tamburo, cioè la base della cupola, e l'avvio, l'imposta dei costoloni. Quindi alla base della cupola una luce che piove ovviamente all'interno della chiesa durante tutto l'arco del giorno, perché essendo impostata lungo la cupola evidentemente il sole passa, ma non esiste un momento in cui almeno una parte delle finestre non è illuminata. Quindi vedete bene che l'effetto è quello appunto dice il vostro manuale di consapevole snaturamento della struttura e della materia, perché si costruisce una struttura che è una struttura molto forte, molto coesa, molto pesante, ma contemporaneamente si fa in modo che questa struttura venga frammentata, snaturata, diffusa dalla potenza della luce. Ecco, se andiamo a vedere cosa succede a Ravenna, noi abbiamo definito Ravenna la Bizanzio, la Costantinopoli d'Italia, perché abbiamo detto è una città che ha un'importanza enorme, impressionante nell'economia, diciamo così, dello sviluppo bizantino in Italia. Noi sappiamo che Ravenna torna ad essere capitale diciamo così della parte imperiale dell'Italia dopo le guerre greco-gotiche e rimarrà capitale dell'esarcato, quindi capitale bizantina d'Italia, fino al 751, quindi fino all'avvento dei Longobardi. Vedete bene che Ravenna ha un'importanza strategica, anche politica fondamentale. Ovviamente, essendo così legata al mondo bizantino, ci si aspetta un intervento importante dell'arte bizantina a Ravenna e in effetti questo intervento lo troviamo e lo troviamo nei mosaici. Ma se andiamo a guardare l'architettura che abbiamo già visto, notiamo che invece a Ravenna si mantiene generalmente l'impianto italico, cioè le chiese non sono chiese a pianto centrale, se non i battisteri, ma tendenzialmente le chiese più importanti sono allineate alla tradizione italica e quindi sono piante longitudinali, basilicali. Abbiamo visto Santa Pollinare Nuovo, che è una chiesa di costruzione ostrogota, ma che comunque mantiene questo andamento longitudinale, e Santa Pollinare in classe, che invece è una chiesa di costruzione di epoca giustinianea, ma che nonostante questo non imita assolutamente Santa Sofia o comunque le strutture, le chiese a pianto centrale, ma fa qualcosa di più tradizionale. Un solo edificio è completamente bizantino e viene fatto sul modello, diciamo così, delle piante bizantine, a Ravenna e alla chiesa di San Vitale, che è quella della quale ci occuperemo nella prossima lezione e che come caratteristica ha proprio questo andamento curvilineo, questa volontà di straniamento all'interno, al suo interno, come abbiamo detto, semplicità all'esterno, complessità, ricchezza all'interno, anche questo, abbiamo detto, ha un valore simbolico molto forte, ma una pianta centrale che come vedete sembra aprirsi in un fiore, una sorta di grande margherita, un artesce disassato, un quadriportico e vedete una chiesa di una complessità assolutamente atipica per quello che abbiamo conosciuto finora nell'architettura italica, perché i cristiani nella penisola italica recuperano semplicemente la basilica romana, quindi normalmente la chiesa cristiana in Italia è impostata sulla struttura di una basilica romana, quindi una cosa rettangolare, generalmente con un'unica abside dalla parte dell'altare. Stop! Questa è la struttura fondamentale della basilica paleocristiana italiana. In questo caso invece c'è proprio un recupero immediato dell'architettura giustinianea. Va anche detto che San Vitale, esattamente come Santa Pollinaria in classe, è una costruzione giustinianea, viene proprio realizzata in epoca giustinianea e evidentemente in questo caso si decide proprio di creare un piccolo monumento bizantino all'interno della città più bizantina d'Italia. Dico piccolo monumento perché San Vitale, nonostante abbia dimensioni abbastanza importanti, non è ovviamente palagonabile alla dimensione colossale, impressionante di Santa Sofia. Ecco, la prossima volta ci occuperemo in particolare di questo edificio straordinario che è ancora perfettamente integro e visitabile a Ravenna.